C'è nessuno? No, meno male. Questo è il secondo giorno che vedo la sua casa. Ciao gattino, io mi chiamo Ugo. Piacere! Vedo che parli molto. Andiamo! Questa stanza è così paurosa quando non c'è paura la sua sedia. Oh, che bello. Oh mio Dio, dormi quel computer. Adesso basta che vuole il suo canale per vedere che continuo ti fa, giusto per passare un po' il tempo. Non c'è la luce! La devo accendere io così più stilosa. È più bella adesso così posso scrivere. Vediamo che cosa accadrà. Carica, 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 carica. Oh mio Dio, quante cose belle! Wow! Guarda quanto è grande il canale di Power. Adesso voglio un attimo vedere le playlist. Andiamo giù! Oh mio Dio! TG Chicken versus Pollo. Interessante. Andiamo un attimo a vedere, esaminare questa sua serie, eh? Se può essere chiamata... Dio canale YouTube! Ormai tutti mi diffano e lo vogliono pure. Che cazzo di voce?! No, non lo devi fare, sì. Che cazzo! Non è possibile! Non è possibile! Tutti la vogliono! Ma volere che cosa?! Questo carre... Oh mio Dio! Ma perché tu vieni così tanto? È TASTRIVO! Pollo, inarrestabile! Inarrestabile! Ma non è possibile, Pollo! Quello che sto cercando di dirti è che tu sei proprio un merito! Che sedi di mer... Madonna mia! Vanno a girare due anni di divertimento, ma ragazzi devo fare io una nuova serie! Meno male che c'è un burro e un bellissimo microfone! Alzati strani! TUTU! Ok, perfetto! Ora iniziamo il nostro video! Salve a tutti! Io... Sono... Mi sono dimenticato il mio nome, Pollo! Io sono Ugo e oggi seguo questa nuova serie! Sto registrando il post... Dove mi trovo? Cosa? Questa... Questa... È la... Stanza di Power! Oh mio Dio! In un solo anno! È cambiata completamente! Ma... Perché? Non mi sono svegliato dopo così tanto tempo! Non mi stava pensando! Perché... Non mi sono risvegliato! Oh mio Dio! Senti ragazzi! Allora... Ti dico che sarà una serie nuova quella che io voglio fare! Di chi sono queste voci? È meglio si vada un attimo a controllare! Io voglio crescere rispetto a quella vecchia serie che portava Power che si chiamava... Digi Chicken vs Spollo! Cosa ha detto? Digi Chicken vs Spollo! Cosa ha detto? Oddio! Quella serie! Me la ricordo ancora! No! È così... Ma perché è un pio di così tanto? È così... Ma perché? Voglio un attimo vedere! Con le mie zampe! Spero che il video vi sia piaciuto! Lasciate il like! Condividete! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Che cos'era? E tu che cazzo saresti? Io? Ah! Perché mi hai spinto? Non sono cose che ti riguardano, mostriciattolo. Io sono TG Chicken, il pollo torturatore. E tu? Come hai fatto a venire qua? Oh mio Dio! Poi mi hai posato qui? Io non credo le tue menzogne, sporco. Io so che Power non mi tradirebbe mai. È vero, mi aveva trovato in un supermercato. Perché mi vuole ucciderlo, ti prego. Power non mi toglierebbe il mio posto. Tu lo deixi apposta per farti dare la colpa. Ma Power ha detto che aveva concluso tantissime serie. E anche TG Chicken e su spollo. Non ci posso credere. Mi ha rimpiazzato. Il mio unico padrone Mi ha rimpiazzato. Dopo tutto quello che io ho fatto per lui. Dopo i sacrifici che gli ho fatto per lui. Mi ha rimpiazzato per un mostro. Io credevo in lui. Io credevo in lui. Se non ti avesse trovato, lui mi amava ancora. Non posso fare nulla. Power ha deciso di comparmi. Io non posso fare nulla. Perché mi nascondi la verità, lurido? Perché mi nascondi tutto? Io non ti sto nascondendo nulla. Ti prego. Io sto dicendo tutto veramente. È Power che ha voluto concludere quella serie. Non so perché. Perché io mi ritrovo qui da due giorni. È così che mi stai dicendo che Power mi ha rimpiazzato solamente perché ha chiuso la mia serie e ha comprato te. Non si scherza con me. Io non scherzo mai. Se proprio accetta te. Io non posso essere rimpiazzato dopo non averlo saputo. GGG Chicken vs Spoiler una serie che andava bene sul suo canale. E invece sei arrivato tu una piccola merdina. Per non far portare avanti la sua serie. Ti prego. Ti prego. Non farmi le mani. Sì. Nel mio metodo di torturatore mi dicono una cosa. Ti devo uccidere. Così. Dici Chicken vs Spoiler. Ti prego. Non puoi uccidermi. Sono un cucciolo. Io non risparmio nessuno. Ma non posso uccidere qualcuno. Se tu non lo farai. Allora lo farò io. Ti prego. Ti sconcio. Io non volevo farti alabbiare. Mi spiace. Ma non dovevi venire qui. Nessuno mi può togliere la mia ira. Nessuno. E pure il mio vecchio microfono. E pure il mio vecchio di questo. Ti puoi lo ti puoi. Io non scherzo. Dai possiamo finire. Ok. Ti prego. Io non posso farlo. Ti prego. Tu non mi puoi più fermare. Tu non mi puoi scappare da lui. Tu è l'urido. Tu è l'urido. Sei solamente un cotardo. Tu è Power. Power ha tradito la mia amicizia. Tu vuoi farmi concludere quella serie. Ti prego. Pensi davvero di potermi fermare? Possiamo fare un accordo. Possiamo fare un trattato di pace. Stai prendendo il giro e il pollo sbagliato. Dimmi. Perché sei passato così? Ti puoi puoi. Tu stai pensando. Di fermarmi. Tu. Stai pensando. Stai pensando. Stai pensando. Tu. Lo stai pensando. Me la mette nel po- Questo pugnopolle non posso annarci. Mi puoi. Qualcuno mi aiuti. Non mi puoi più fermare. Non hai più chance. Tu non sei nessuno. Scoppa, Cotallo. Ti lascio andare. Però ti avverto. Ucciderò. Mi devo nascondere. Forse. Forse. Tu puoi fare. Stai sapere. Ti dici che. Non hai sempre un vito. Io non voglio morire. Ma io non voglio morire. Dimmi. Farò finta. Ti sei un pupazzo normale. Non lo faccio solo per power. hai fatto bene la tua mossa. Se vedo che ti muoverai ancora un'altra volta per te. Sarò alla fine. Non muoverci. Ti do un'ultima possibilità. Ora. Devo sapere. Perché power mi ha rimpiazzato. Ass Volta. rea. 해안 sus. Chi. 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 Grazie a tutti